Siamo qui con Cristian Sbaragli al Giro di Lombardia, sappiamo che hai firmato per altri due anni, cosa ti aspetti? Sì dai, già prima del tour ho rinnovato con la squadra per i prossimi due anni, l'ambiente è ottimo, un bel progetto quindi sono molto soddisfatto. Un parere su come ha corso il tuo capitano, Van Der Poel, alla Paris-Giroubaix? A Mattie abbiamo parlato e non era ancora al 110% però ha voluto onorare al massimo la gara e sappiamo che lui piace correre così e anche il suo bello. Magari poteva correre un pochino più in maniera difensiva però Mattie è Mattie quindi ha fatto una grande gara. Sicuramente ha fatto una grande gara ed è bello così, nel ciclismo di oggi è bello vedere protagonisti di questo tipo. Un'ultima domanda, sappiamo che hai partecipato, più che partecipato sei stato, hai vestito i ruoli di attore per lo spot di Shampoo Alpecin. Ci puoi ripetere la frase? Perché uso Alpecin? Perché ci tengo ai miei capelli. Grazie mille, in bocca al lupo. Ciao.